Che giornata di merda ragazzi, che giornata di merda, che giornata di merda, che risveglio, mi sono fatto anche il caffè, mi sono fatto anche il caffè, che risveglio di merda, che risveglio di merda, mamma mia, mamma mia. Allora, 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 allora regà, oggi intorno alle 8, stasera esce il pagellone della Serie A del calcio mercato, poi esce il post partita di Napoli-Lazio, poi domani, più o meno a quest'ora, facciamo i convocati di Mancini, un po' di roba per calma regà, perché cosa succede se sei miliardi, sessanta miliardi le cose e non ci abbiamo tempo. Vi dico anche un'altra cosa, qua parliamo dei pagelli e le facciamo della Roma, qua stiamo a 481.465 iscritti, andiamo a 490.000 iscritti entro l'una, ne porto le pagelle anche del Milan su Simone Sicco, quindi andiamo a 490.000 iscritti. Io sono, sono triste, io sono veramente triste, cioè lo dicevo nel video di ieri, no, io sono veramente triste, il termine giusto, il termine adatto, il termine adatto, porca puttana, per definire la situazione della Roma in questo momento, per definire un tifoso della Roma in questo momento, è triste, è triste, è triste, non è arrabbiato, ma è triste. Cioè mi sembra di vedere una squadra che non abbia una voglia, che non abbia un'anima, che non abbia una cazzo di idea di quello che sta facendo e dentro ne vanno tutti, ne vanno tutti, non ne va fuori Murigno, non ne va dentro solo Murigno, Io ve lo dico perché tanto vedo che la gente crica solo Murigno, ha le sue colpe perché sta squadra, ragazzi, gioca, gioca che non si regge in piedi, cioè la Roma, ragazzi, non si regge in piedi, non ha un'idea di gioco, Palla lunga e pedalare che manco fossimo negli anni 90, nella speranza che qualcuno davanti la spizzi, e poi però non sono esenti da colpe i giocatori, Perché se volete venire qui a parlarmi di quante colpe abbia Giuseppe Murigno, dobbiamo anche parlare del fatto che io non credo che se da domani arriva in panchina nella Roma, Miglior allenatore del mondo, la Roma è Cristanti, inizia a fare le piroette, non credo che, che cazzo ne so, Mancini inizi a fare i sombreri, Cioè, Selic e Ian Kamann, Ian Kamann adesso e Ian Kamann pure dopo, cioè quello è Selic, più di quello Selic che cazzo può fare più di quello Selic? Dall'altra volta abbiamo doppia L, abbiamo Llorente, ragazzi, Llorente ogni volta che lo puntavano piangiva, ma che cosa può fare? Cioè, per quanto voi possiate dire è il gioco della Roma, sì, poi sono quelli però, poi sono quelli con un mercato fatto, in parte bene, in parte con delle scelte sicuramente discutibili, questo è. E la cosa che mi dispiace è che, è che non c'è manco la voglia, perché, come vedete, veniamo presi a pisellate dal Verona e poi il Verona perde col Sassuolo, perché? Perché il Sassuolo è meglio del Verona, il Verona è meglio di noi, perché? Perché funziona così, non funziona così, funziona perché come giochi, come dimostri di giocare, quello che metti in campo, il fritto che metti, poi si riversa anche sul risultato. La Roma in questo momento è nulla, io sono tanto preoccupato, io sono tanto preoccupato, a parte che siamo in zona retrocessione, non sto scherzando, visto la classifica, siamo terzultimi e oggi devono giocare le altre, domani devono giocare le altre, quindi è probabile che dopo domani saremo ultimissimi. Partiamo dal super supposto, e intanto siamo in zona retrocessione. Abbiamo perso due partite e pareggiata una. Non lo so, non lo so, non lo so, sono disperato. Poi ci sono dei giocatori che io non riesco a capire, non riesco a capire, prestazioni alte, basse. Prestazioni del cazzo, delle volte sembra che non abbiano voglia. Ma non è che ci devi venire a fare un favore a noi, non è che devi venire a fare un favore a noi. Io erano anni che non vedevo una situazione così disastrosa, vi dico la verità. Erano anni, ora la partenza, lasciamo perdere qualcuno, gli anni di Carlos Bianchi, che la Roma non partiva Bianchi, che la Roma non partiva, credo, Carlos Bianchi, ottavo Bianchi, non me lo ricordo, stavo leggendo ieri live, che la Roma non partiva così male. Va bene, va bene, ci può stare. Sti cazzi della partenza, in una stagione ci stacca e fai un punto in tre partite, che la fattura faccia all'inizio, alla fine, o nel mezzo, ok? Ma a me ne preoccupa tanto la situazione. Cioè, la Roma vista ieri non è la Roma, ragazzi, non è la Roma. Ma perché il problema non è affrontare il Milan, è come lo affronti. È quello che dimostri di avere in campo mentre affronti il Milan. In questo momento la Roma vista in campo non è la Roma. Non è una squadra che gioca a pallone, non è una squadra che ci prova, non è una squadra che pensa... Cioè, se l'obiettivo è quello di essere quarto in classifica, perché poi l'obiettivo è quello, non mi venite a dire, eh, ma quando ci arriverai? Magari mai! Possibile, ma l'obiettivo è quello, quello di arrivare quarta in classifica. Questa non è una squadra che può ambire ad arrivare quarta in classifica in questo modo qua. Ma poi avevamo parlato, no, ultimamente con un mio amico, che saluto, della Roma e di come la Roma avrebbe potuto distendersi in campo con una difesa a quattro. Io ero, diciamo, un... ero a favore della difesa a tre. Però lui giustamente mi faceva notare e mi diceva guarda che Murigno, con la difesa a quattro, no, soltanto ci avesse dei campioni in campo, giocava con l'Inter e con l'Inter aveva degli schemi ben precisi. Cioè, un terzino difensivo e un terzino superoffensivo. Ora, chiaramente, noi stiamo messi con le pezze al culo. Lì il terzino difensivo era Kivu, qua sarebbe Llorente. Lì il terzino offensivo era Maicon, qua sarebbe Spinazzola. Però, poi c'aveva a centrocampo due calciatori, di cui uno, diciamo, che faceva il tuttocampista, che da noi dovrebbe essere Cristante, pensate, da lì era Gambiasso. Giocatori, chiaramente, differenti, differenti. L'altro era più mobile, il Carazzanetti, da noi lo farebbe Renato Sanchez. E poi c'avevi un esterno, che lì lo faceva Ito, e da te lo farebbe il Sharawi. Anzi, anzi, sì, possiamo dire una cosa? No, un esterno che lì lo faceva Pandev, che era quello meno forte di quell'Inter, e qui lo farebbe il Sharawi. Una punta che è diventata esterno, cioè Ito, e qui, tecnicamente, lo farebbe Abram. Dybala, che era il trequartista, e lì lo faceva Snyder. Dietro la punta, qui sarebbe Lukaku, li ha Milito. Ora, chiaramente, quell'Inter è 10x, 20x, 100x, 1000x, è fortissima. Però, almeno, ispirarsi a qualcosa di positivo che è stato fatto in passato, mi risulta abbastanza intelligente. La Roma di adesso è una Roma che non ha né capo né cosa. Difesa 3 ci bucano da ogni poro. Al centrocampo perdiamo tutti, tutti, tutti gli scontri. Non c'è uno scontro che vinciamo in mezzo al campo. Non ce n'è uno. Uno. In attacco non arriva un pallone. C'è una distanza enorme, enorme, tra centrocampo e attacco. Io non so più che dirvi. Io non so più che... Facciamo le pagelle, guardate, facciamo le pagelle. Pa, 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 gelle. Che schifo. Allora, facciamo le pagelle. Rui Pasticcio, 5. Fa un miracolo su Leao. Bravo. Aspettate. Aspettate. Perfetto, abbiamo finito. Perfetto. Fa un miracolo su Leao. La prima parada dell'anno. Peccato che il rigore lo provoca lui. Sul rigore, per quanto poi si possa dire decisione, non decisione, perché poi ho letto di tutto e di più. Non me ne frega un cazzo. Cioè, è rigore, danno rigore, hai fatto fallo da rigore. Ci pesi sull'economia della partita, tantissimo. Calcio di rigore. Voto, Rui Patrisi, Rui Pasticcio, 5. C'è un cazzo da fare. Tanto ogni partita c'è sempre il suo zampino. Purtroppo non positiva. Va bene così. Mancini. 5 e mezzo. 5 pure lui. 5 pure lui. A un certo punto, Leao lo appunto dove faceva. Hey, hey, hey. E Mancini. Oddio, oddio, oddio. E Leao. Hey, hey, hey. E Mancini. Oddio, oddio, oddio. E mi era papà mi palla. Ora, alla fine della partita di Mancini non è che sia stata poi così tanto negativa. però non vi aspettate che io dia chissà che voti. Visto, la Tata Rui Patrisi sui 5 ha fatto un rigore, ha causato, poi ha fatto un miracolo. Mancini si è pierre 5, si è mette zitto e si è mette all'angolino. Iorente, Iorente, 4 e mezzo. Cioè, allora, ci sono stati dei momenti in cui Iorente sembrava potesse dare una mano. Delle altre, ragazzi, boh. Cioè nel senso, sul rigore ad esempio, sul rigore. C'è lì Iorente che sta sorseggiando un ottimo caffè. Non lo so, ma dei momenti di appannaggio doppia L che io non riesco a comprendere. Non riesco proprio a comprendere. Smalling sei meno. Diciamo che alla fine Smalling un po' si è rivisto. All'inizio io l'ho visto, dopo 20 secondi ha fatto già una mezza cappella. Ho detto, eccoci, Smalling quest'anno ragazzi inserisce in piedi. Invece poi alla fine si è ripreso. Forse ho sentito un po' l'odore di partite importante. Si è ripreso, però pure lui, ragazzi, veramente inguardabile in questa prima apertura. Diciamo che è l'unico che è salvo della squadra e della difesa. Centrocampo. Allora, Cristante 5,5. Cristante 5,5 perché ci mette grinta, ci mette cattiveria. È l'unico che c'è i piedi buoni. È l'unico che va in verticale. È l'unico che vede il movimento e lancia. È l'unico che ci crede fino in fondo. Cristante 5,5. Io, regà, non riuscirò mai a criticare Cristante. Non riuscirò mai a criticare Cristante perché, come vedete, insomma, è l'unico che ci mette la verve. Paredes 4,5. Madonna, Paredes. Madonna, Paredes. Qualcuno mi ha detto, come va a criticare Paredes che è l'unico che gioca bene? Pensate. Paredes è l'unico che gioca bene. Pensate. Per favore, prendete una mazza e datemela sui coglioni. Se Paredes è l'unico che gioca bene, prendete una mazza e ripetutamente distruggetemi le balle. Cioè, ragazzi, Paredes non ha fatto una cosa giusta. Non l'ha fatta. Non l'ha fatta. Non l'ha fatta. E se fa un lancio lo fa su un magnano. E se fa un passaggio lo fa sbagliato. E se gli danno un pallone e ci mette due ore a girarsi e prima di dare il pallone in avanti passano altre due ore. E così che fermiamo un contropiede e loro tornano tutti quanti. Paredes è lento. E' faticoso anche da vedere. Io non lo so. Io non lo so qual è il problema di Paredes. Non lo so chi ha messo sotto contratto Paredes. Però vorrei tanto saperlo. Bove sei meno. Gioca venti minuti. Poi gioca nei minuti migliori della Roma. Quindi, insomma, fa qualcosa. Si vede. Dice dai passamela, dai passamela, dai passamela. A war. A war sufficiente. Mezz'ora è durato a war. A war c'ha l'autonomia, purtroppo. Era in riserva. A war si rompe. A war si rompe. Quindi, vabbè, quando ha giocato bene, sarà l'ennesimo calciatore che quando gioca... Quando gioca, gioca bene. Poi per il resto, però, se si rompe sempre è un macello. A war non si vede mai. Cioè, non si vede mai. In realtà si vede. Quando ha giocato, i palloni ti davano, lui, erano tutti giusti. Gli inserimenti che facevano, lui, erano tutti giusti. Correva su ogni pallone. Era importante in fase di costruzione, in fase di interdizione, in fase di inserimento. A me era piaciuto particolarmente a war. Poi dopo mezz'ora si sfragna. Ma che devo fare? Ma di che devo parlare? Ma che volete dire? E vabbè. Entra Pellegrini. Dopo mezz'ora. Pellegrini quattro e mezzo. Pellegrini quattro. Io voglio capire. Pellegrini, che cazzo ti sta succedendo? A parte che è sempre stato così. A parte che è sempre stato alte basi. Ma ragazzi, ma Pellegrini ci stava facendo un favore. Io penso che si qual fa la YouTuber Summer Cup. Non può camminare in campo, ma volendo è accettabile. Ma Pellegrini che cammina in campo in Roma-Milan, no. Io non posso vedere nel 2023 un tipo con la fascia al braccio, capitano, che cammina in campo a Roma-Milan. Ma che cazzo stiamo facendo? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma posso dire una cosa, no. Io non voglio essere cattivo, però questa cosa l'ho sempre detto. Ma non staremo dando troppa importanza a Pellegrini. È un buon giocatore. Sì, nel senso, stiamo giocando con Paredes. Quindi anche Mizzia, se la schieriamo in campo da mezzala, sarebbe un ottimo calciatore, no. Però Pellegrini è un buon calciatore. Sì, può giocare nella Roma. Sì, stop. Non è il capitano supremo. Non è il fuoriclasse fuori dal mondo. Non è il top play. È il giocatore che in questa Roma, una Roma che arriva settima, sesta, a fatica, c'è postà. Se già alzi l'asticella e arrivi in Champions, c'è postà. Ma come il centrocampista, uno dei meno forti. Cioè, non lo so. Poi succede che Pellegrini si sveglia quei 3-4 giornate, fa 3 o 4 gol, 2-3 assist. Sta dicendo, mamma mia, adesso non dici più niente di Pellegrini. Non è che non dico più niente di Pellegrini. Questo è Pellegrini. Stop. Cioè, lo sappiamo benissimo. Sappiamo che Pellegrini tornerà a fare bene con le 3-4 giornate. Eh, ma se entrava quella punizione. Bene. Mi dispiace per lui che non è entrata. Per il resto non ha fatto un cazzo. Sono 4 partite. Che 3 partite non fa niente. Poi è vero. È vero che non era in forma. È vero che non era al top. È vero che non se la sentiva. Però c'è sempre una scusa. Allora non entrare. Cioè, ti dico la verità. Se mi devi fare un favore che di entrare al trentesimo in quel modo. Non entrare. Lascia entrare Pagano. Lascia entrare Pagano. Lascia entrare chi cazzo ti pare. Ma non entrare tu. Cioè, se non hai la possibilità di entrare perché ti senti stanco. Lascia perdere. La fai entra a bove prima che ha fatto 20 minuti. Fai entra a bove prima. Dillo, guardami se io non ce la faccio. Io cammino poi. Mettevi 20 minuti a me. Fai gioco a bove 70 minuti. 60 minuti. Quanto cazzo è? Perché io non me la sento. E allora io alzo le mani e ti dico. Vabbè, non se la sentiva. Selic. Jan Kamann. Selic. Selic. Due. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, raga. Selic. Selic, allora. Teo Hernandez lo puntava. Andava dritto. Cioè, non è che dici spostato. Andava dritto. Andava dritto. Teo Hernandez. E Jan Kamann era lì in completa balia. In completa difficoltà. Non sapeva che cazzo fare. Sapeva che diceva. Ma che me invento? Niente. Leao. Puntava. Puntava. Puntava Selic. Niente. Sul gol. Sul gol di Leao. Sul gol di Leao. Sul gol di Leao. Selic. Fermo. Io non lo so. Queste sono le cose che a me mi fanno ragionare in negativo. Allora. Selic. Qual è il tuo problema? Qual è il tuo compito? Qual è il tuo compito? Ieri ci ha provato ad offendere Selic. Noi giochiamo con due esterni. Selic e Zaleski. Ragazzi. Non sanno attaccare. Non sanno difendere. Non sanno tendere la palla. Non sanno far sedere la squadra. Non sanno inserirsi. Non sanno fare sovrapposizioni. Non sanno fare i laterali bloccati. Non sanno fare un cazzo. Allora. Perché stipendiamo due giocatori che non sanno fare un cazzo? Piuttosto mettiamoci. Piuttosto ci vado io. Che cazzo. Che faccio schifo. Ma almeno ci provo. E non vengo pagato. Cioè. Non ha senso. Non ha senso. Poi. Spinazzola. Devo dire che quando è entrato. Sei più. Secondo me è stato il migliore della Roma. A parte ha fatto anche il gol. Ma pure prima aveva già provato a far gol. E la palla era finita alta. Ce l'ha messa tutta. Non ha giocato male Spinazzola. Almeno lui. Ma tanto Spinazzola non ha giocato male perché è rientrato la partita in corso. C'era 20 minuti. Ha fatto con deviata e vabbè. Ma Spinazzola si è fatto tutta la partita. Quattro e mezzo era. Perché è un altro giocatore che non sa crossare. Perché noi siamo quattro esterni. Non c'è uno che sa crossare. Non c'è uno. Non c'è uno che sa crossare. Non esiste. Va a fondo campo. Mettono un mezzo. E Zaleski non arriva manco. Zaleski non arriva manco mezzo all'area. Non lo so. Mi sembra a me quando sono passato a giocare da otto a undici a nove anni. Spinazzola c'ha una precisione che porca puttana Bocelli sarebbe più preciso. Selic non lo so. Selic io veramente non lo so andavamo preso Selic. Io non ce l'avevamo preso nel grande mondo dei terzini. Io penso ci sia una lista no. Una lista infinita di i terzini de merda. Scrittosi tutto attaccato no. E praticamente i direttori sportivi della Roma possono accingere, attingere da questa enorme lista dove escono fuori i giocatori tipo, che ne so, i Mattias Vigna. Escono fuori, escono fuori i Rick Karsdorp. Escono fuori i Christensen. Escono fuori i José Angel. I Piri. Sono tutti i giocatori che la Roma prende da quella fantomatica lista i terzini de merda. E noi prendiamo sempre per schiava perché noi non c'è un anno che prendiamo un terzino fatto bene. Poi vi svelo un segreto. Se volete giocare con gli esterni a tutta fascia, voi prendete esterni che abbiano due palle grosse così. Cioè l'Atalanta che giocava con gli esterni a tutta fascia, che giocava con gli esterni a tutta fascia, va a prendere gli esterni strapagandoli. E ci punta fortemente. E quando vanno via dall'Atalanta, vanno via a 30, 35, 40 milioni. Cioè gli esterni dell'Inter, gli esterni dell'Inter che giocava a tutta fascia, sono Quadrado, sono Dumfries, sono Carlos Augusto, sono Di Marco e c'era Gosens. Ragazzi noi abbiamo Kasdorp, Selic, Spinazzola, Zaleski, me ne manca un altro, Christensen. Cioè noi prendiamo gli esterni a tutta fascia. C'è quello dell'Inter, c'è quello che suona Titanic e poi arrivano quelli della Roma. Uguale. È così. È così. Cioè non lo so. Zaleski è un altro, 4,5. Zaleski cosa fa? Zaleski cosa fa nella vita? Zaleski qual è il ruolo, il compito di Zaleski nella vita? Cioè io non lo capisco. Perché Zaleski è stipendiato dalla Roma? Perché Zaleski è un giocatore della Roma in questo momento? Qual è la caratteristica? Zaleski è un bel ragazzo. Piace alle ragazze. Bene. Poi? Poi in campo. Poi in campo. Eh ma quando Zaleski giocava a... Perché? Eh ma Zaleski non è una... Ah non è una... E cos'è? È un esterno... Eh però Zaleski non è un esterno a tutta fascia. È un esterno con uno di... Ah. Eh ma Zaleski non è un esterno a destra... Ah e sin... Eh ma Zaleski... Oh! Zaleski cosa fa? Cioè devi giocare un ruolo preciso? Devo fare un modulo esatto per Zaleski perché nelle restanti zone del campo Si inciampa da solo. Fatemelo sapere. Almeno io lo so e so che se la Roma giocava in un modulo Zaleski gioca bene. Sennò fa sempre schifo al cazzo. Perché se così fosse chiederei cortesemente, umilmente, alla curte Di dimandare a fare in culo Zaleski. Perché non azzecca una partita manca a pagarlo. E di che dobbiamo parlare? Ma di che dobbiamo parlare? Il Sharawi. Cinque e mezzo. Mi dispiace perché dico sempre di far giocare il Sharawi titolare. L'attacco era molto distante, molto, molto, molto distante dal centrocampo. Questo è un problema tattico, è un problema del mister. Però al di là di questo, il Sharawi non ha fatto veramente niente. Forse è giusto un tiro, per il resto... Mi sono arrivati veramente, penso, due palloni in tutta la partita e uno l'ha perso. Lukaku è entrato al suo posto, la sufficienza gliela diamo. Ha giocato 20 minuti ma in realtà ha preso un pallone e ha subito calciato. Poi ha fatto altri due o tre errori e poi ha preso un giallo. Ma in realtà è un 6 di favore perché sapevamo che Lukaku non poteva giocare. Sapevamo che Lukaku era fuori forma. Siamo arrivati a mettere Lukaku perché dovevamo fare qualcosa. C'era una Roma che non era minimamente inconsiderabile come una squadra di pallone. Hanno detto mettiamo Lukaku, almeno magari giocato lì. No cazzo c'è Lukaku in campo, fammo vedere che almeno non siamo dei dementi. Però tanto alla fine ragazzi Lukaku manco doveva giocare. Io avevo pure paura che si facesse male. So perché è tornato il giallo e si è preso un cartellino giallo. A cazzo, facendo un fallo nel nostro centrocampo, con tutti messi a caso, con l'esterno che stava a giocare in attacco, con il centrocampista che stava in porta, con Lukaku che stava a difende. Belotti sei meno meno in realtà, nel senso che non struscia un pallone, che Tomori gli mette le palle in testa per tutto il tempo. Però poi che vi devo dire? Vi devo dire che in una partita in cui viene messo in una condizione sbagliatissima. Perché è vero che Belotti è un attaccante, come lo diceva di ieri, da Fiorentina, da Torino, da Sassuolo, ci sta. Però nel momento in cui tu hai un giocatore da Fiorentina, da Torino, da Sassuolo, come vice tecnente Lukaku, che quando Lukaku non c'è gioca a Belotti, non è male, no? Non è male per niente. Il problema qual è? Il problema è che non gli arriva una palla, non gli arriva una pulita. E nella giornata di ieri, che era una giornata pessima, riesce comunque alla fine a guadagnarsi, a guadagnare per la Roma l'espulsione di Tomori. Quindi almeno su questo bravo. Poi la partita non è sufficiente, però comunque va analizzato un po' tutto. Murigno 4 e mezzo ieri. 4, 4 Murigno, 4. La Roma non gioca. E non è il problema dell'avversario, perché Milan manca giocato benissimo. Tu non hai fatto nulla. Non hai un'idea di quello che stai facendo in questo momento. È la verità, regà. Poi se andremo più avanti, se dovessi andare più avanti, se andassimo più avanti e cambiassero delle cose, io sono il primo a dirvi, no, non è vero, adesso ho un'idea. Però in questo momento non è perché non arrivano i risultati. Non ha un'idea, cioè non ha veramente un'idea. Cioè il centrocampo sta in culo rispetto all'attacco. Proprio una distanza enorme. Tant'è che tipo Cristante per far arrivare un pallone, a Belotti lanciava alto, scodellava. Regà, e Cristante è il giocatore centrocco più vicino, dopo l'uscita di Awar, a Belotti. Cioè quindi dovrebbe passare l'anno orizzontale, scodellava. I palloni dalla ricerca quando è entrato di Lukaku, Lukaku si metteva così, difesa del pallone, difendeva e faceva sponde. Perché? Perché non ci si arrivava. Gli esterni lontanissimi, lontanissimi. Palloni scodellati per gli esterni che spesso non riuscivano a mettere giù, perché tecnicamente sono quelli che so. Qua dimostriamo anche scarsa capacità nella comprensione delle qualità dei giocatori, perché se tu pensi che un giocatore come Zaleschi lo puoi lanciare a 340 chilometri, lui la prende, la blocca, la mette dentro perfetta, stiamo a fare una cazzata, tant'è che le occasioni dei nazionali dell'Arma sono tutte state deviate, mezze deviate, o palloni alti, ma i gnan di miracoli non ne ha fatto, ha fatto una parata centrale, ho rivisto pure gli highlights, le parate non ce stanno. La difesa è ferma, che da una parte, io condivido quello che ho detto, cioè se te Hernández te punta, te punta Selic, se dall'altra parte Pulisic te punta, ma manco dico Zaleschi, perché Zaleschi manco l'ha mai puntato, manca era mai in posizione, puntava Llorente? Puntava Llorente? Ecco, se succede questo, Mancini pure puntava Leao, eccetera, sicuramente c'è un discorso relativo a famoschi far cazzo, quelli siamo. Dall'altra parte però si apre una piccola porta, la piccola porta che si apre è, non sarà che se tu stai prendendo i cazzi in faccia, sarebbe meglio passare a 4, in modo che aggiungi un uomo dietro, in modo che sì, magari rischi di schiacciarti, ma magari alzi un po' la difesa, ti stringi, giochi stretto, giochi corto, e ti avvicini, e magari veramente metti Llorente più basso, Spinazzola più alto, che c'ha la possibilità di partire, ma comunque una difesa a 4, e quindi fai giocare col 4-3-3-4-3-2-1-4-3-1-2, vediamolo un po' come cazzo ti pare, con magari il trequartista che va a fare da collante, tra il centrocampo e l'attacco, visto che il centrocampo sta qui e l'attacco sta lì, o io non c'ho il tesserino da allenatore, non è che sono il mago, non è che sto dicendo niente di clamoroso, sto analizzando una situazione, visto che non mi sembra che la Roma stia vivendo una situazione così rosea, non sarebbe il caso di fare una prova del genere, visto che in difesa ci bucano a destra e a sinistra, a sinistra e a destra, non lo so, poi vedetevela voi, solo che di sto passo retrocedemo.